Ciao ragazzi, io sono Angela Piazio e siamo qui con il Cerapec. Allora, nello scorso episodio ho cercato di fare i portali, ma facendo le cose di fretta ho dato fuoco alla casa. Con il fuoco viola che non si spegne. Quindi, oggi faremo sempre la zona dei portali, però la faremo in una zona un po' più lontana, un bel po' più lontana. Allora, direi che qui potrebbe andare. È una zona un po' grande, però è stata da spianare. Vabbè, usiamo l'acqua. Ok, allora qui c'era una torcia. No! Ok, bisogna togliere tutta l'erba, sennò poi rompe. Ok, direi che va abbastanza bene, basta fare la stessa cosa anche un po' di qua. E un po' in là. Ok, allora, vediamo un po'. Per il momento non faremo una cosa tanto grande. Poi in futuro magari la ingrandiremo. Allora, facciamo da qui. Facciamo una cosa abbastanza così. Sì, direi che è abbastanza larga. E poi vediamo per quanto riusciamo ad allungarla. Ok, direi che così per ora può bastare. Come ho già detto, poi in futuro se ce n'è bisogno la ingrandiremo. Ok. Poi ci mettiamo l'entrata. Mi sa che non faccio un po' troppo di recensioni. Giusto un tantino troppe. Ne avanza quasi uno stack. Ecco. Va bene, dai. Tanto in futuro poi la ingrandiamo, come ho già detto. Allora, mettiamo i primi portali. No, mi manca un accend... Ah sì, ce l'ho. Ce l'ho tutto. Allora, il primo portale naturalmente sarà quello del nether. Qui. Qui. Uno, due. Uno, due. Uno qui. Uno qui. Poi terra qui. Terra qui. E questi da qui. Qui ci togliamo questo. Qui togliamo questo. E voilà. Il primo è fatto. Ora c'è il secondo. Che sarà questo qui. Uno, due, tre. Aha. Allora, in questa dimensione ci... No, qui levo. Anzi, no. Eh, no. Se vado nel nether chissà dove spawno. Ok, devo tenermi pronto con l'arena. Ok, vediamo un po'. Uh, e vai, sempre nel stesso posto. Ok, allora rientriamo. No, no, no. Poi appendere un attimo due pezzi di nether terrak. Due o tre pezzi. Ok, atterriamo lentamente. Ok. Mamma mia, come potente. Quattro, due me ne basta. Un due. Ok, riprendiamo l'arena. Torniamo sopra e andiamo laggiù. Tanto sento gassi in sottofondo. Spero che non sia andato a po' vicino. Oh, ok. Stava per suicidarsi. Rientriamo. E li met... Che cavolo ci fai qui? Mi sono pure dimenticato il tuo nome. Torna subito in casa. È andato nel nether. Non ci posso credere. Ma dai! Ok, non riesco più a recuperarlo. Accendiamo il prossimo. Ecco qua, finalmente siamo riusciti a farlo a partire. Poi c'è questo qua. Cioè quello del Telegate Forest. Intanto è di totanotte qui. Christian e del Golem. Possiamo farne un altro. Tanto le scheletra non sono tanto rare da trovare. Allora, andiamo subito a farne un altro. Va a visto che sia. No, anzi, lasciamo perdere. Per il momento il totanotte non è molto utile. Troviamo qui su tanto. Allora. Sono tornato a casa per mettere un po' in ordine. Le due cose che non ci servono. Qua niente. Qua non ci sa niente. Le mettiamo qui. Allora, vi chiedete che cosa sono queste cose qui? Non lo so. Quindi direi di procedere oltre. Allora, dormiamo. Anzi, non si dorme perché si va a fare il portale. No, anzi, si va a cercare gli enderman. Quindi cerco gli enderman. Perché servono quelle maledette enderpearl. E ci vediamo fra poco. Ma perché non li fa? Ah, eccoli. Ok. Non so, sto pensando se rimetti di uccidere quel tizio lì. Ci provo, perché no? Il cibo. Cavolo, c'ho le carote. Ok, meno male. Cavolo, carote. Su, lottiamo. Muoviti. Allora, questo qui, poi, in teori, mi dovrebbe pure droppare il suo blocco di ferro. Oh, caspita, Elina! Dobbiamo stare attenti perché se ci toccano questi blocchi ci facciamo molto male. Ok, quasi. Oh. Fatti sotto! Mamma mia! Guarda qua. Brucia! Fa male, eh? Fa male. L'ho mancato completamente. Ma se l'ho delle frecce. 20 ne ho. Ok. Allora, è impossibile che i blocchi ci manchino. Almeno che non li stappiamo. Muori, 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 muori. Cavolo, fame. Ok. Sbam! Ci stiamo un po' massacrando. E allora, scappa! Scappa! Perché non corri? Levati! Ok, lasciamo perdere. Non riuscirò mai a sconfiggere. E continuare a cercare gli enderman. Ok, non li ho trovati. Come sempre. Allora. Devi uccidere quel ragno lì e proseguire nella costruzione del portale. Magari piuttosto li vado a dargli una controllatina. Ok. Ritorna! Allora, vediamo un po' il secchio. Poi c'è... Ah, la torcia appunto per mettere la lista non spavano i nostri. Ok, mettiamo una torcia dove... Vabbè, tanto poi ci mettiamo il portale che fanno luce. Allora. Direi di mettere questi cosi lì sopra sul portale del nether. Uno. Due. No! Due. E uno. E due. Ok. Allora, mi serve poi un ragno. No, non mi serve un ragno, mi serve un secchio d'acqua. Ok. Rientro qui. Rientro qui. Ok. Tu ritorni e tu muori. Interessante. Oh, un maiale! Maiale? Sì, non è un maiale, è un creeper maiale. Quindi muori! Ok. Questo va messo qui. Questo va messo attorno. Ma cosa sta facendo? C'è l'acqua che galleggia lì, fa cose strane. Fatto e ora... Vai! Mamma mia! Ma colpito in pieno. Ho fatto anche un bel po' male. No! 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 Mamma mia! Uno di vita c'è sto qui. Maledetto tizio. Allora, potremmo andare subito qui, ma prima voglio fare un altro portale. Per il quale devo andare nel deserto. E quindi andrò nel deserto a prendere della sabbia. Ok, c'è un ratto qui. Va bene, ma quello che mi chiede è perché c'è una spada. È una spada del tizio lì. Dello scheletro... No. No. Oppure sì. Se fa esplodere la sabbia e me la droppa, giusto? Boom! E però mi ha quasi ammazzato. Mamma mia come potente. Ok. Grazie della sabbia. Vabbè, io continuo. Enderman individuato! All'attacco! Procedere, procedere! Non lo individuo più. È sulla mappa, però non lo vedo. Ok. Ci siamo vicini. Scendiamo! Dovrebbe essere... Eccolo lì! Eccolo lì! Vai! Morisci! Morisci, stolto! E vai! E tu non lo aiutare. Ha fatto una cosa sbagliata. Cioè, non lo so dove vai. Ok. Direi che non racconta abbastanza. Oppure no. Non lo so. 48. Dai, direi che può bastare. Per caso torno qui. Psssshh! Ok. No, che ho fatto? No, che ho fatto? Che cosa sto facendo? Come si scende? Ok. Ci siamo riusciti. Torna qui. Allora, direi che possiamo subito fare il portale. Allora, si fa in un modo abbastanza semplice. No, non è semplice. Allora. Bisogna scavare. Ma mi sa che non basta. Ok. Allora, così. Deve essere 5 per 5. Allora. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Ancora di qua. Ci vuole davvero un cassino di sabbia. E cose varie per farlo. Ma perché scavo così? Che c'ho la paletta. Direi che questa roba qui però possa abbastare. Forse. Ho un tocco di velluto, è vero. Che genio. Cioè, non che genio. Che epico. Perché non è fatta una cosa geniosa. Ecco. Allora. Allora, poi deve essere uno. Così. Sento qualcosa a bruciare. Ah, è quello, è vero. Che stupido. No, dai. Non dirmi che non basta. Non ci credo. Basta. E avanza. No, basta. E non avanza. E puff. Sì, questo è il portale dell'autum, ragazzi. Nel prossimo episodio andremo a vedere quella e quella nuova dimensione. Quindi, ciao ragazzi. E al prossimo episodio.